Bene amici oggi proviamo il Pixel 3 ma anche il Pixel 3 XL Eccoli qua Allora se io fossi da quella parte della videocamera ovvero dalla vostra parte Si li criticherei aspramente perché sembra che costino troppo Il design non innovativo, la tacca sproporzionata Una sola camera dietro, solo 4 GB di memoria RAM Ma io sono da questa parte della telecamera E vi dico che nell'uso quotidiano mi sono piaciuti un casino Perché? Andiamo a scoprirli insieme E partiamo dalla confezione Vediamo cosa c'è dentro oltre ovviamente al telefono Qua le istruzioni con la graffetta per togliere il cannellino con una sola SIM Poi abbiamo qua le cuffie, devo dire di ottima qualità Abbiamo la tipo C perché non c'è il jack per le cuffie su questi Pixel 3 Ma è un misto tra in-ear e cuffie normale Questo gommino va a incastrarsi nell'orecchia Non cascano mai e si entrano veramente molto bene Poi c'è il cavo tipo C, tipo C C'è il cavetto adattatore per le cuffie normali a jack E poi c'è anche l'adattatore da tipo C a USB normale Quindi per attivare l'OTG Ma anche perché in fase di configurazione il telefono vi chiede se volete migrare i dati al Pixel E allora vi servirà il cavo del vecchio smartphone per fare questa operazione E poi il caricabatterie rapido, 18 W Ci mette circa un'ora e venti a caricare la batteria da 16 W Ma parliamo un attimino del telefono Gli ho qua entrambi, guardate la differenza dimensionale sia frontalmente sia posteriormente Beh c'è ma anche di peso, 148 grammi questo, 180 grammi questo Ma soprattutto la larghezza Qua sfondiamo i 70 mm che sono forse la dimensione che va a dividere spartiacque tra padellone e non padellone 76 mm, qua siamo a 68 mm Quindi con una mano si tiene decisamente meglio in mano Ma poi vi parlerò dopo delle differenze Lo sblocco si attua con l'impronta dietro perché non c'è il riconoscimento del volto Tra l'altro stranamente in altri telefoni Android stock C'è la possibilità di sbloccare il telefono con il volto grazie allo smart lock di serie E qua non c'è nemmeno quella possibilità perché guardate abbiamo queste altre possibilità Si può sbloccare col voice match per esempio ma non con il volto strano Una sola camera dietro con il flash led adattivo Tre microfoni ma guardate la parte posteriore Completamente in vetro Gorilla Glass 5 fatto per attivare la ricarica wireless Allora va toccato questo telefono perché a guardarlo sembra il pixel dell'anno scorso In realtà è molto diverso perché è una monoscocca trattata differentemente Questo vetro satinato da toccare è veramente fantastico Fa effetto vellutino seta insomma veramente da toccare Accensione di spegnimento poi qua abbiamo il volume sotto il carrellino Una sim l'altra elettronica dentro Poi abbiamo il tipo C quindi il cavo Da questa parte non abbiamo niente e sopra c'è il microfono di cui vi dicevo Davanti la maledetta benedetta tacca Sblocco appunto con l'impronta digitale Se no ci sono i classici metodi di sblocco La vedete molto alta o meglio non la vedete Magari entriamo in un'applicazione che ve la fa vedere meglio Sì veramente molto molto alta Forse eccessivamente alta Però due camere quella grandangolare Con 97 gradi di angolo di apertura L'altra 75 gradi Due speaker frontali Questi secondo me sono imprescindibili Perché poi farò sentire come suonano bene Always on display Always on display che non fa sentire la mancanza del led di notifica Perché è un always on display veramente intelligente Vi fa vedere il meteo Vi fa vedere se avete un appuntamento dopo Qual è l'appuntamento Vi fa vedere tutte le notifiche E quando arriva una notifica Potete anche rispondere, eliminarle, interagire E con un doppio tap Vedete si aprono E qua possiamo andare anche da sbloccato Per esempio fare delle operazioni E anche allargarle Insomma un always on display Che funziona veramente molto molto bene Vi parlo di batteria integrata 3430 mAh Vi faccio vedere quanto è durata Nella mia giornata stress Non che ho potuto fare il live Perché eravamo sotto embargo Fino ad oggi non potevo dirvi niente Se non far vedere come girava le foto E comunque giornata Vedete alle ore 8 ero al 9% di batteria Ma una giornata un pochino più stressante della media Quando ho fatto appunto questi test Si può attivare ovviamente il risparmio di batteria C'è il risparmio di batteria Che viene attivato con intelligenza artificiale 4 ore e 39 minuti di display Durante la giornata E vi faccio vedere proprio il menu dedicato alla batteria Vedete c'è la possibilità della batteria adattiva Che va a capire quali sono le applicazioni Che usate più, usate di meno Probabilmente più lo si utilizza Più capisce Ma tendenzialmente non è un battery phone A sera nella mia giornata stress immediata Sono arrivato con un 10% di batteria residua Vi faccio vedere al volo anche il Pixel 3 non XL Che da questo punto di vista invece mi ha stupito Perché guardate ha fatto praticamente come fratello maggiore Sono arrivato alle 2231 con il 7% di batteria Se guardate l'uso delle applicazioni non è stato molto diverso E soprattutto anche il tempo vedete Utilizzo 4 ore e 2 minuti Quindi una autonomia che direi paragonabile Anche qua a sera magari qua non arrivo col 10% Ma col 5% però più o meno sono due telefoni Che vanno assolutamente ricaricati tutte le sere Vi parlo del display Allora qua torniamo nelle foto Andiamo nella cartella di test Il display è un QHD Plus OLED Mi piace un sacco questa funzione di Android Pie Con la possibilità di tenere la rotazione disabilitata E abilitarla con un pulsantino quando serve Mi fa veramente impazzire Gestione delle foto quando le zoomiamo Non bellissima perché vanno a intersecarsi con la tacca Ma display che mi è piaciuto molto di più Di quello del Pixel 2 dell'anno scorso Soprattutto per quanto riguarda i bianchi Vi ricordate l'anno scorso appena giravi il telefono Viravano un azzurro veramente fastidioso Quest'anno forse un filino la tendenza Ancora la ama veramente molto 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 meno Si vede bene sotto la luce del sole Sono display HDR Magari vi faccio vedere al volo Un video in 4K HDR su YouTube Per farvi capire quanto è bello questo display Vi metto anche qua in orizzontale Questa parte di video Guardate come ci sono i contrasti veramente importanti I belli colori Tra l'altro colori che sono assolutamente tarabili E già vi do un assaggio di quello che è l'audio Ma non troppo perché poi dopo andremo a ascoltarlo nello specifico Ma andiamo a vedere quali sono le differenze di questo Android 9 Pie Su questo Pixel Ok In impostazione già avete visto la grafica Ma questo l'avevamo già visto sul Pixel 2 Quando ho fatto il video cantinetta Ovviamente abbiamo Android 9 Con le patch a settembre Strana questa cosa Ma probabilmente quando uscirà il 2 di novembre Quando sarà in vendita Perché adesso è in preordine Arriveranno anche le patch di ottobre Se non quelle già di novembre Ci sono le gesture E c'è solamente l'active edge Ovvero la pressione dei bordi Che fa attivare l'assistente Google Io la trovo una cosa fantastica Ovviamente attivabile e modificabile La sensibilità alla pressione è comodissima Lo prendi al volo Lo schiacci e parli a Google E poi una cosa che mi è piaciuta Il non disturbare Adesso ve lo metto Il non disturbare Guardate cosa succede Non vedo più le notifiche Quindi non solo non vengo disturbato Ma non ho nemmeno il disturbo visivo delle notifiche Però questa cosa è selezionabile e modificabile Infatti se vado qua nell'always on Nelle notifiche Posso decidere se riceverle senza audio Non ricevere oppure personalizzarle Notifica per notifica Questa è una cosa che mi è piaciuta Veramente tantissimo Opzioni utili in ogni dove Per esempio Per esempio negli sms Guardate sto provando una applicazione Di una banca Di un portafoglio elettronico Mi è arrivato l'sms con il codice di verifica E guardate comparsa questa opzione Copia 5827 Ed è una cosa veramente molto comoda Ci sono opzioni smart Qua e là nel telefono Per esempio Forse prima mi è scappato uno screenshot Che volevo farvi vedere adesso E ve lo faccio vedere subito Andiamo indietro Dove sono qua gli screenshot Ok Quando abbiamo due pixel vicine E su uno attiviamo l'hotspot Sull'altro automaticamente viene fuori Senza che voi tocchiate niente Questa schermata con la possibilità Se volete di collegarvi al vostro hotspot Questa è una cosa mutuata un po' da iPhone Che fa da tanto questo automatismo Volendo se non vi piace la tacca Potete andare qua nelle opzioni È un'opzione molto nascosta E questo vuol dire che Google Non vuole che la utilizziate Bisogna sbloccare gli utenti sviluppatori Bisogna andare in disegna Vediamo se lo trovo Disegna, disegna, input Ok disegno Simula un display con ritaglio Google non lo chiama Ne tacca, ne notch Ma ritaglio E si può andare a nascondere Vedete la tacca sotto È un'opzione dedicata agli sviluppatori A chi vuole sviluppare Vedere come si vedono le app In telefoni senza tacca Perché vedete si abbassa tutto Si abbassano anche le notifiche E così diventa un telefono Diciamo così old style Però se non vi piace la tacca Perché è molto alta La potete tranquillamente attivare E niente così Non avrete questa cosa noiosa A me sinceramente non dà fastidio Però effettivamente qua è molto alta Secondo me è scomodo invece L'uso quotidiano Lo swipe su Per aprire l'elenco delle applicazioni È vero che le applicazioni che uso Le ho messe tutte nelle varie schermate Ma c'è ovviamente il drawer Perché vedete Il mio dito deve scorrere su Veramente tanto per aprirlo Perché a un primo step Si apre questa schermata Che ho trovato molto comoda Anche se graficamente Guardate secondo me c'è un bug Un errore La casella di ricerca Google Va a sovrapporsi a queste Che sono applicazioni Che ci suggerisce automaticamente Il telefono in base a quello Che usiamo di più Che ce le suggerisce sempre Veramente ad hoc E sopra abbiamo il multitasking Poi con uno swipe ancora più su Anche qua due suggerimenti Sulle azioni che facciamo più spesso E poi tutte le varie applicazioni Dopo un po' di assuefamento Direi che questa cosa è comodissima Soprattutto questo Swipe su e andare a cercare le applicazioni Meno comodo invece questo Cioè di switchare Tra le varie applicazioni aperte Facendo un destra-sinistra Sulla barra qua sotto Barra qua sotto Che dopo che ci si abitua Devo dire diventa comoda Forse sarebbero state più comode Le gesture Ma veramente io questa barra Che va a Sì ok Togliere un pochino il display La trovo nell'uso quotidiano Veramente Veramente comoda Cosa che mi piace tanto La ricerca Perché non è mai universale Per esempio non cerca nel calendario Non cerca in Gmail Bisogna andare in Gmail E fare una ricerca lì specifica E niente Iniziamo a parlare di parte telefonica La sim ce l'ho da questa parte Funzionano esattamente Allo stesso modo Per quanto riguarda l'audio Una cosa volevo farvi vedere Non mi ricordo più Se è da questa parte O dall'altra parte Nell'elenco delle chiamate No probabilmente è dall'altra parte Perché ieri Mi è arrivata una chiamata E questa è una cosa che non c'è Nel dialer stock di Android Guardate è stata rilevata Come spam Solitamente bisogna installare Applicazioni di terze parti O comunque Sì ci sono altri smartphone Che lo fanno Ma qua è integrato Nel sistema operativo Il riconoscimento automatico Delle chiamate spam Ok Chiamiamo Vodafone Attiviamo il Viva voce Alzo il volume Altoparlante stereo Ma Come vedete Va solamente L'altoparlante sotto Questa non è una grande critica Perché Devo dire che si sente Molto alto Il volume è veramente elevato Ma soprattutto I microfoni Su entrambi I telefoni Sono Paorogi Sono tra i pochissimi telefoni Che potete lasciare Lì sulla scrivania Anche a un metro da voi E parlare in viva voce Senza che dall'altra parte Vi dicano Eh come Forse non capisco Veramente la parte telefonica Mi è piaciuta tantissimo Poi l'altra cosa Che mi è piaciuta tantissimo Il feed Aptico Della Non solo della tastiera Ma anche Di quando utilizziamo Quale le gesture Veramente Al top Fa uno stitik 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 Preciso Puntuale Anche potente È l'unico Che è paragonabile Ad iPhone E nel Diciamo panorama Di Android È l'unico Ad avere questo Feed preciso E per quanto riguarda La velocità Veramente È molto veloce Molto fluido A parte sul gestore Delle pagine Che ci mettono un'ora A caricarsi Ma in realtà Anche il multitasking Tra un'applicazione E l'altra Per quanto riguarda La fluidità generale Nell'uso quotidiano Devo dire che Lo paragonerei A OnePlus 6 Ed è sempre Anche molto affidabile Non ho avuto bug O problemi In questi giorni Di test Ovviamente C'è La pagina del vostro Feed di Google Swipando a destra È opzionale E parlando di giochi Devo dire Real Racing Non velocissimo 12 secondi Non fulminio E provando anche Questo ormai è stato un gioco di riferimento Lo vedete Nelle miei primi test iniziali Beh devo dire che dopo Una sessione Prolungata Di gioco Qualche leggerissimo Scattino Lo abbiamo Ma davvero Nulla di problematica Nell'uso quotidiano 0 0 0 Molto fluido E veloce Andiamo alla parte Fotografica Non mi soffermerò tantissimo Perché mi sono soffermato Durante l'anteprima Vi ho detto Le mille Cose Che può fare Grazie all'intelligenza artificiale Questa cosa È un po' Buffa Diciamo così Buffa Ci sono produttori Che presentano Camere Tre camere posteriori Addirittura Samsung Quattro camere posteriori Google Vuole dimostrare La sua forza Grazie al machine learning Intelligenza artificiale Comparazione di immagini Eccetera 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 Riesce a fare praticamente Le stesse cose Con una sola camera Posteriori 12 megapixel Stabilizzata Otticamente F1.8 E l'interfaccia Vabbè L'interfaccia È abbastanza classica Effetto bokeh Lo fa con un solo scatto La panoramica I video Allora Diciamo video Cosa non mi piace Il fatto che non registri A 60fps Neanche a 1080p E lo potete vedere Qua Vedete Anche a 1080p Non c'è l'opzione 60fps Però molto buona La stabilizzazione Queste sono le varie impostazioni Con la possibilità Di scattare in RAW E anche in JPEG Insieme E anche i video Li può comprimere Non solo in H264 Ma volendo Anche in H265 Vi voglio far vedere Un'altra cosa Qua ci sono tutte le opzioni Purtroppo Rispetto a quello Che è stato annunciato A Londra Non è ancora arrivata L'opzione degli scatti Notturni E quindi Niente Sarà un'opzione Che riproveremo Ma mi è piaciuto Un sacco Il playground Un mio figlio Veramente ci ha perso Un sacco di tempo A giocare Con gli Avengers Guardateli Possiamo piazzare Sul tavolo Andare a interagirci Con i video Spostarlo Ingrandirlo Rimpicciolirlo Metterlo dove vogliamo Mettere anche altri Diciamo Personaggi Per esempio Qua mettiamo BB8 Possiamo mettere Chi No non è BB8 Mettiamo Ovviamente Bisogna poi scaricare I pacchetti Per avere Tutti i personaggi Disponibili Ma Niente Una funzionalità Che veramente Mette alle corde Il processore Di questo Telefono Ovviamente Lo snapdragon 845 Ma devo dire Che funziona Sempre bene In maniera fluida Guardate Si va a fondere La realtà Con un buzz Che sembra Veramente interagire Con gli Avengers Ok Ci ho detto Andiamo a vedere Come vengono Gli scatti Il punta e scatta È molto veloce La camera A scattare Qua siamo Il solito Screenshot Tra l'altro Spazio limitato Se comprate Un pixel Su google Foto Partiamo dalle foto Fatti con la camera Anteriore di notte Sempre il tastino Per ruotare Il display Si può ruotare Anche la home page Tra l'altro Ecco Io sarei Veramente curioso Di vedere Al buio Con il miglioramento Delle foto notturne Come vengono le foto Perché così Devo dire Bene Ma Non a livello Di altri Top camera phone Anche con la camera Frontale In presentazione Ci hanno fatto vedere Invece foto notturne Incredibili Fate anche Con la camera frontale Grazie a questo A questo miglioramento Delle foto Ma comunque Il punta e scatta Nelle varie situazioni È veramente buono Anche I video Vengono registrati Molto bene Qua state vedendo Il play Che ho fatto Da questo smartphone Un'intervista Che mi ha fatto Montemagno Un'intervista dopo Perché poi Io ho un pochino Sfruttato l'occasione Per intervistare lui Sulla tecnologia E una foto Con una moto Sì ci saranno Occasioni per riprovare Anche le moto E qua Guardate Questa è una foto Fatta Con pochissima luce Grandi contrasti Questo devo dire Che è venuta molto bene E vedete È animata Perché C'è la possibilità Di avere anche Vedete il movimento Sia attivato O disattivato Questo movimento Vuol dire che lui Cattura tante foto Sempre alla massima Risoluzione E se andiamo qua Nelle informazioni Dov'è che Dov'era 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 Presentazione No Forse da qua No Dov'era La possibilità Di scegliere La foto Ok Informazione da sotto Che è venuta meglio Lui con dei pallini Ci dice Guarda che secondo me Questa 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 foto Sono quelle venute meglio Ma possiamo scegliere Tra un sacco Di scatti E poi salvare Eventualmente solamente La foto Che ci piace Che ci piace di più Sì Altro pezzo di video Fatto allo zennio Che sto provando Sotto l'acqua Che ho già provato Non so quando pubblicherò Questa cosa E quella recensione Il buzz vedete È venuto molto bene Buoni i dettagli E con il pixelino piccolo Che fa esattamente Le stesse foto Ho scattato Qualche esempio Di bokeh Tra l'altro Lui salva Sia la foto normale Sia la foto Che va a scontornare Devo dire Scontorna molto bene Sia con la camera posteriore Sia con la camera anteriore Ovviamente È sempre un effetto Software Quindi qualche errorino Ci può stare Questa è la foto Fatta da princi Con poca luce Questa la macro Sempre fatta Con poca luce Mentre questa È fatta In HDR Automatico Assolutamente Contro Contro luce Insomma Se dobbiamo fare Un riassunto Foto molto buone Ma secondo me iPhone XS Max P20 Pro Insomma I top camera phone Fanno qualcosina Di meglio Ma qua aspettiamo Che arrivi Un aggiornamento software Che attiverà Altre Impostazioni Lato audio Vi dicevo Del doppio speaker Anteriore Allora vado Con la mia canzone Super Tamerrima Volume al massimo Non si riesco a fare Anche questa cosa Alzo il volume Anche di qua Allora ragazzi L'audio È inutile che ve lo dica Lo sentite È veramente molto buono Lo stereo frontale Ha sempre il suo bel perché Quando guardiamo un video Su YouTube Così è sempre Una goduria E tra l'altro Audio spaziale Molto stereofonico E anche i bassi Avete sentito Pompano bene Anche dalle cuffie Di serie Si sente veramente bene Quindi audio Assolutamente Assolutamente promosso Peccato Manchi il jack E sì La critica qua ci sta Per quanto riguarda Come stanno in mano Ma ve l'ho detto prima Questo è abbastanza Padelloso Finalmente Quello piccolino Invece ha una misura Che mi piace E tra l'altro Va a perdere La tacca Vedete perché le due Camere sono spostate Sulla sinistra Visto che qua c'è L'altoparlante Probabilmente non c'era Spazio per farlo stare Tra l'altro Bianco che mi piace Decisamente più Del nero Un po' più personale Ma soprattutto Non so perché Mi fa impazzire il tastino Qua di fianco Colorato Ci ho detto Vanno esattamente uguali Anche la batteria Mi aspettavo qualcosa di più Dal pixel XL In realtà In realtà no Sono sostanzialmente Paragonabili Quanto costano? 899 euro Il piccolo 464 Fino a 1099 Del grande 128 128 che Secondo me è praticamente Obbligatorio Che è il cloud Ma se faccio tanti video Tante foto 64 gigabyte Lì si riempiono subito Se mi fermassi Alla scheda tecnica Direi Solo 4 giga di RAM Design non innovativo Tappa sproporzionata Una sola camera dietro Costa troppo Poi Effettivamente Lo prendi in mano Lo usi E te ne innamori Il retro è Sexy da morire Da toccare È veramente fantastico Sarei tutto il giorno qua Toccarlo È veramente Un sacrilegio Andare a mettergli Una cover Dà la migliore Esperienza Android Cose utili E comode nel quotidiano Lo squeeze La sensibilità della tastiera È veramente Velocissimo Andare a scrivere Qualsiasi cosa La tastiera Non va a perdere Un colpo E poi ha questo feedback Che diventa Veramente comodissimo Perché vi fa Veramente capire Quando avete Digitato Una lettera Ottimi Ottimi i microfoni In chiamata Always on Che ha sempre Da suggerirvi La cosa giusta Al momento Al momento giusto Figo Da usare Dice anche La canzone Che sta suonando Nell'ambiente dove siete Se volete Ovviamente è una Opzione da attivare Tra l'altro Fa un riconoscimento Offline Non online Peccato L'autonomia Non da primato Per tutti e due E peccato Non abbia in prova Anche lo stand Di ricarica Wireless Che abilita Ulteriori funzioni Smart Altri dell'anteprima Per capire quali Insomma Mi è piaciuto Un sacco E rispetto Al Pixel 2 XL No Assolutamente Non vale la pena Il cambio Molte funzioni Ci sono Anche là Costa Ovviamente Ormai Meno O forse Si Se come me Odiate Quella tendenza A virare Al blu Del display Del Pixel 2 Questo Quel difetto Non lo ha Veramente Un ottimo display E un telefono Che nell'uso quotidiano Mi è piaciuto Un sacco Ciao E un saluto Da Andrea Gleazzi Punto UQ Uso quotidiano La quotidiana Con la Q Si